C'hanno provato in tutti e due i tempi, devo dire provare a giocare in un certo modo, a riportare quello che faceva nell'allamento. Sicuramente a livello di qualità il primo tempo è stato migliore, ma anche nel secondo i ragazzi hanno cercato di rifarlo con meno qualità, ma la volontà e il desiderio di fare certe cose c'erano. Di lavoro ne manca ancora tanto, siamo solo all'inizio, però quello che mi piace è la volontà e il desiderio di riportare in campo quello che si fa in allenamento, che sia una fase difensiva o offensiva. Abbiamo curato in particolar modo la fase offensiva e devo dire che ho avuto delle ottime risposte, ma non solo nelle partite a Michele, ma anche negli allenamenti la squadra ricerca con continuità determinate verticalizzazioni che a me piacciono. Grazie a tutti.